Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy 7 Ever Crisis per parlare del banner di Tifa. Banner di Tifa che sblocca l'attacco Aurora Cannon, un attacco che inizialmente si pensava potesse essere sacro, addirittura, sacro e tuono oppure solo tuono. Ci sono state diverse idee che sono circolate in questi giorni, ovviamente anche in riferimento all'attacco di Tifa che prende ispirazione da Sabin dove Laura Beam, o comunque Laura Cannon, chiamatelo come volete, consentiva di effettuare questo danno sacro tuono. E tra l'altro era anche fisico, quindi diciamo che questa cosa è stata azzeccata, ovvero con l'attacco fisico, però effettivamente parlando l'elemento in questo caso non c'entra niente, dato che per l'appunto l'attacco è un attacco non elementale. Che cosa c'è da dire? Ragazzi, sinceramente parlando a me questo banner non mi piace per niente, cioè se proprio devo dirlo in modo sincero, specialmente per chi comunque ha pullato durante l'anniversario, è un banner assolutamente inutile. Potrebbe essere un banner interessante per coloro che non hanno pullato durante l'anniversario, quindi non hanno avuto la possibilità di avere la spada Bahamut di Cloud, che praticamente non dico fa la stessa cosa, ma è molto simile ovviamente a quest'arma, e che possa effettivamente diciamo aiutare i giocatori nel completare i vari, diciamo a completare appunto diciamo le varie difficoltà o comunque i vari stage, soprattutto quelli iniziali, e quindi dare una scossa a tutti quei giocatori che magari hanno lasciato il gioco, che magari avevano quittato, proprio perché non erano riusciti a pullare per l'anniversario, o che comunque vogliono iniziare a giocare e hanno la possibilità di recuperare quello che con il Bahamut hanno perso, anche se in realtà la vera forza del banner o comunque dei banner anniversario non erano le armi, ma erano i costumi, quindi purtroppo per chi ha perso i costumi, ahimè, non avrà modo di poterli recuperare, almeno per ora, però diciamo che quest'arma può sopperire alla mancanza della Bahamut, quindi chi effettivamente non possiede la Bahamut Sword di Cloud potrebbe ripiegare su questo, anche se per me personalmente parlando non è assolutamente interessante, è un banner veramente pessimo, anche perché potrebbe aiutare effettivamente anche con le risoluzioni di Kefka o comunque dello stage di Kefka, proprio perché comunque danno non elementale, danno fixed, quindi è un danno che verrà inflitto a prescindere, però non aiuta neanche questa collab o questo banner, è veramente particolare, avrei sperato di vedere una Tifa con un'arma, magari elettrica magica, che dava appunto potenza, magari imperi il tuono, così come appunto la Tempest di Sephiroth, però magica, mi sarei aspettato quella tipologia di arma, che sinceramente parlando mi sarebbe anche piaciuta, ovvero fare il 700% AOB10 con ovviamente Thunder Resistance meno 3 e poi ovviamente magari anche danno AOE, cioè sarebbe stata carruccia anche avere un 700% AOE con diminuzione resistenza elettrica, sarebbe stata molto interessante un'arma simile, però purtroppo non è così, quindi l'unica arma che effettivamente risulta essere utile è quella di Eris, che per l'appunto mette 3 Imperil e consente in un certo senso di gestire la situazione, quindi un banner che ripeto non mi piace, non mi piace, il costume non è male se devo essere onesto, perché comunque il physical e magic world è una bella ability, 15% di difesa fisica e magica data solo dal costume è buona, è veramente buona, soprattutto col fatto che ormai i contenuti più difficili bisogna rollare un'alta difesa magica, un'alta difesa fisica, quindi effettivamente il physical e magic world sono molto interessanti come abilità, e poi il physical ability mastery che in questo caso per tifa fisica purtroppo per me è bocciata, perché ormai tifa la uso come attaccante magica, quindi non utilizzerò assolutamente niente che possa essere fisico su tifa, quindi per me è scarta da prescindere. L'arma invece che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che ovviamente di base 430% con 10.000 danni fixed AOE, sinceramente parlando, tra l'altro aumento della potenza di attacco fisica e magica low, fino allo B6 che addirittura diventa low con max potencies high, quindi cioè veramente terribile, veramente terribile questa roba, cioè io dovrei fare 3 attacchi per potermi maxare praticamente in high, cioè spendere praticamente 12 barre a tb, per me non ha completamente senso. E' interessante e va bene il danno, che comunque ha un 670% che AOE non è male, più i 30.000 danni fixed che vengono comunque in flicchi AOE potrebbero essere interessanti, tra l'altro altissimo valore di attacco fisico per quanto riguarda quest'arma, e poi addirittura OB10 abbiamo comunque il 800% che abbiamo visto e il 40% di fixed damage, quindi direi che comunque OB10 può essere considerata un'arma discreta, anche perché ripeto è un 800%, però stiamo parlando di danni AOE con un 40.000 danni fixed, quindi se si viene buildata bene, cioè se Tifa viene buildata bene, anche un 100k a botta praticamente AOE vengono fatti in un colpo solo. E sinceramente parlando non è brutto, ma per questa collab, per questa guild battle, per tutto quello che abbiamo visto al momento, è un'arma che secondo me rimane, a parte rimane inferiore rispetto alla Bahamut, ma comunque sia, è un'arma che non mi piace. Devo essere sincero, è un'arma che non mi piace. Quindi purtroppo questo banner per me è comunque sconsigliato, è un banner che non ha una logica se è inserito in questo periodo, però potrebbe avere una logica per coloro che stanno iniziando a giocare e vogliono recuperare ciò che hanno perso. Magari potrebbe essere un'idea, però per i giocatori più navigati non c'è nulla da fare, è un banner ingiustificabile, a mio avviso. Detto ciò, vi ricordo l'appuntamento stasera ovviamente sul canale Twitch, dove parleremo, discuteremo, guarderemo il capitolo e poi cercheremo di guardare un po' anche le mock battle, vediamo un po' la situazione come è combinata e giustamente poi ci inizieremo ad allenare per quanto riguarda questa maledettissima guild battle. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima.